ciao sono max de vergori imprenditore mindset coach trainer e fondatore di modelli di successo il progetto serio ed etico che ti aiuta ad allenare il tuo mindset con modelli di comportamento e strategie ad alto impatto di crescita prima di iniziare mi raccomando se i contenuti di modelli di successo ti piacciono pollice in su e iscriviti ai nostri canali per gli aggiornamenti del progetto dunque inizio questa puntata con una domanda sei un visionario o un sognatore anzi riformulo la domanda vuoi essere un visionario o una visionaria o una persona che sogna e basta questa è la domanda finale di questa puntata ma partiamo un attimo dal principio dunque per visionario google ci fornisce la seguente definizione chi nell'elaborazione di progetti o nell'esposizione di concetti si lascia trascinare dalla fantasia e dal sentimento voglio arricchire per un momento questa definizione poiché mi sembra incompleta io aggiungerei che un visionario è colui che nell'elaborazione di progetti si lascia trascinare dalla fantasia e dal sentimento e che traduce in azione le sue piano reale persone come ilon musk steve jobs bill gates opera winfrey maria montessori rita levi montalcini marie curie e migliaia di altre sono riuscite a trascinare dal piano immaginativo a quello della realtà le loro visioni quindi di fatto essere visionari significa sognare anche in grande ma soprattutto significa lavorare idealmente e alacremente per i propri sogni per le proprie visioni all'opposto del visionario vi è un'altra figura questa però è molto più comune e si chiama sognatore i sognatori sono coloro che sognano magari anche in grande ma non traducono in azione quanto sognano queste tipologie di persone desiderano realizzare qualcosa di importante per loro desiderano l'oggetto dei loro sogni ma non si danno da fare per realizzarli cosa spinge quindi un visionario a darsi da fare e cosa invece trattiene un sognatore dall'agire parto da quest'ultima domanda un sognatore potrebbe non tradurre i suoi sogni in azioni per tanti motivi ma sono due quelli a mio avviso più importanti il primo è la paura e il secondo è la pigrizia la paura perché spesso i sogni sono difficili da realizzare e le persone si lasciano spaventare dalla mole di lavoro da fare per realizzarli la paura porta alla paralisi e quindi i sogni di coloro che provano questo sentimento rimangono purtroppo nel cassetto la pigrizia perché visto che viviamo nell'era della gratificazione immediata pensando al duro lavoro da affrontare la stragrande maggioranza delle persone si impigrisce e preferisce una vita monotona e comoda piuttosto che avere una possibilità di realizzare i propri sogni il visionario in questo è differente è un sognatore sì però è un sognatore pratico il visionario non si lascia spaventare né dalla mole di lavoro da fare né dagli ostacoli problemi successi e fallimenti che deve affrontare sia chiaro il visionario soffre e sbaglia come chiunque altro ma le motivazioni che lo inducono ad agire sono più forti di qualsiasi altra cosa il visionario fallisce prova e riprova fallisce ancora e ancora subisce lo sconforto della perdita lavora anni e anni senza risultati degni di nota spesso si rende conto troppo tardi di aver preso una direzione sbagliata quindi ricomincia da capo e continua la sua strada il suo sogno ha la priorità su tutto non si arrende e continua a provare nonostante i problemi nonostante gli insuccessi e nonostante i spesso numerosi fallimenti in definitiva parafrasando Winston Churchill il visionario è colui che passa da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo bene ora che sai cosa significa essere visionario oppure una persona che sogna e basta la domanda finale è tu chi vuoi diventare se hai scelto di essere un visionario o una visionaria ricorda che non basta sognare ma devi anche tradurre in azione i tuoi sogni bene siamo giunti alla fine di questa puntata e mi raccomando come sempre se i contenuti di modelli di successo ti piacciono pollice in su e iscriviti ai nostri canali per gli aggiornamenti del progetto noi ci vediamo alla prossima un abbraccio da automax